Eccoci, ce l'abbiamo fatta, siamo all'interno dell'istituto, tutto ciò che sembrava impossibile fino ad ora, noi ce l'abbiamo fatta. Finalmente siamo dentro. E' incredibile, questo posto sembrava totalmente inaccessibile, eppure eccoci qua. Alla fine siamo entrati, a quanto pare ci hanno già sgamato, non sono stupidi. Ciao. Mi chiedevo se ce l'avresti fatta, le risorse non ti mancano. Questo è vero. Mi chiamano padre, l'istituto è sotto la mia guida. So perché sei qui. Vorrei parlare con te, faccia a faccia. Per favore, entra nell'ascensore. Va bene. Non c'è bisogno di essere violenti, non ancora perlomeno. Posso solo immaginare cosa hai sentito, cosa pensi di noi. Hai ragione. Voglio dimostrarti che potresti avere un'opinione sbagliata. Beh, dimostramelo allora. Ti do il benvenuto all'istituto. Bello. Questa è la realtà dell'istituto. Questo luogo, questa gente, il lavoro che facciamo. Per oltre un secolo ci siamo dedicati alla sopravvivenza dell'umanità. Eh, certo, come no. Uccidendo le persone e sostituendole con i vostri sintetici. Una visione condivisa di come la scienza può plasmare il futuro. La scienza sì, non i sintetici. Le nostre azioni sono spesso mal interpretate dalla gente in superficie. Per le giuste ragioni, tra l'altro. Potremmo mostrargli ciò che abbiamo ottenuto. Ma per ora dobbiamo restare sottoterra. Probabilmente questa è una scelta giusta. Come hai visto, lassù le cose sono instabili. Quello è un eufemismo, padre. Per parlarti di cosa potremmo fare per tutti. Ma può aspettare. Sei qui per un motivo specifico e molto personale. Sei qui per tuo figlio. Bravo che lo sai, allora. Eccolo. Sean. Sean, sei tu? Sean? Eh, sì. Hai i miei stessi capelli. Oh, bimbo mio. C'hai il mio bellissimo colore di capelli. Ti ho cercato così a lungo. Sean. Ti ho cercato disperatamente. Così a lungo. Chi... chi sei? Sono tua madre. Sean. Sono io. Sono... Sono tua madre. Padre. Che succede? Che succede? Tuo padre è morto. Sean. Papà non c'è più, ma... Io sono qui. La mamma è qui. Che succede? Padre. Padre. Che cosa vuoi che faccia? Sean, tesoro. Non ti conosco. Vattene via. Che cosa vuoi che faccia? Padre. Padre aiuto. C'è qualcuno qui, aiuto. Chi è? Dov'è questo padre? Padre? Chi è? Dov'è? Padre! Padre! Aiuto! Vuole portarmi via! Padre! Padre! Aiuto! Cosa mi ferma dall'ucciderti, eh? Cosa mi ferma? Sean. S923. Codice di richiamo. Sirrus. Era un sintetico, quindi. Deludente, ma deludente. La risposta del bambino non è stata quella prevista. È ancora un prototipo, capisci? Stiamo solo iniziando a esplorare gli effetti dei forti stimoli. Dimmi che cosa mi ferma dall'ucciderti adesso. Capisco il tuo stato emotivamente scosso. Non credo che tu lo capisca. Il suo luoglio è stato pieno di sfide. Sfide? Eufemismi. Io sono il padre. Ti do il benvenuto all'istituto. È il tuo nome? Il tuo titolo? Padre! È il tuo nome! Il tuo titolo! Padre è il mio titolo non ufficiale. È ciò che sono diventato per la gente dell'istituto, come... Tu sei un genitore per tuo figlio. Per Sean. Te la faccio molto più semplice. Dov'è mio figlio? Te la faccio semplice. Dov'è mio figlio? È qui. Nell'istituto. Più vicino di quanto tu creda. Fammelo vedere allora. Voglio che tu capisca che questa... Situazione... È molto più complicata di quanto tu possa immaginare. E allora voglio risposte. Ho scelto molto per trovare tuo figlio. Beh... La tua tenacia e la tua dedizione... Sono state ricompensate. E voglio conoscerti finalmente... Dopo tutto questo tempo. Sono io. Sono Sean. Tu. Io sono... Tuo figlio. Tu. Mio figlio. Com'è possibile? Com'è... Com'è possibile? So che è difficile da accettare. Nel volto hai perso il senso del tempo. Una volta fuori dalla capsula... Per me sono passati dieci minuti. Per te... Quanto tempo è passato allora? Poi hai scoperto che tuo figlio... Non era più un bimbo piccolo... Ma un ragazzino di dieci anni. Hai creduto che fossero passati... Questo grazie ai ricordi di Kellogg. È davvero così difficile accettare... Che non sono stati dieci anni... Ma sessanta. Questa è la realtà. Ed eccomi qui. Cresciuto dall'istituto. E ora... Nessuno a capo. Sto per svenire per tutte queste informazioni. Ti hanno strappato da me. Da tuo padre. L'hanno ucciso. Mi... Mi segui? Tutto questo ti sembra giusto? Quello... Quello che hanno fatto non è giusto. Strapparti così da me. Per te questo è sicuramente vero. Ma per l'istituto... Aveva perfettamente senso. Sì, ma non per me tuo padre. L'anno 2227... L'istituto aveva compiuto grandi passi avanti nella produzione... Non mi interessa la storia dei sintetici, father. La curiosità scientifica... E la ricerca della perfezione... Li spinsero oltre. Ciò che volevano era... La macchina perfetta. Sì, e hanno distrutto una famiglia per questo. Anche di rapire bambini. Non vedo il punto di tutto questo. Sì, non ti seguo. Non vedo il punto di tutto questo. Non vedi il collegamento? Lascia che ti spieghi. L'istituto mirava a creare sintetici organici. Il punto di partenza logico... Era chiaramente... Il DNA umano. Certo. Era in abbondanza, naturalmente. Ma era divenuto corrotto. In questa... Desolazione... Le radiazioni modificano tutto. Sì, me ne sono accorta. I miei membri dell'istituto che avevano cercato di proteggersi dal mondo in superficie erano stati esposti. Serviva un'altra fonte. Ma poi l'istituto trovò me. Dopo aver scoperto i registri del Volt 111. Un bambino ibernato nel tempo. E' protetto dalle mutazioni indotte e dalle radiazioni che avevano modificato le cellule di tutti gli umani del common world. E' questo il punto. Eri un bambino. E' questo che gli serviva. E così il mio DNA è diventato la base dei sintetici organici usati per creare tutti i sintetici umanoidi che vedi oggi. Io sono il loro padre. Noi siamo una famiglia tramite la scienza. I sintetici. Io e tu. Io lo capisco che questi tu li consideri i tuoi figli. Ma tu eri mio figlio. Tu sei mio figlio. E ti hanno strappato da me. Quanto tempo sprecato. Sessant'anni. Quanto tempo sprecato. Lo so. Avrai molte domande. Forza. Farò il possibile per aiutarti a capire. Kellogg. Lavorava per te? Kellogg. Lavorava per te. Kellogg. Era una risorsa dell'istituto. Sì. Me ne sono accorta. Aveva la stessa età quando tu eri un bambino. Ho scoperto cosa aveva fatto. Che razza di uomo era. E sapevi che cosa faceva e l'hai lasciato comunque. Sapevi che quell'uomo era uno psicopatico. Ma l'hai usato comunque. Avresti preferito che lo lasciassi libero per il Commonwealth. Il Commonwealth avrebbe fatto il suo dovere. Sotto controllo. I danni collaterali sono stati minimi. L'istituto ha scontato la cultura di Kellogg. Non lo nego. La tecnologia dell'istituto ha prolungato la sua vita e la sua utilità. E allora vedi che non era giusto tutto questo. Sì. Me ne sono accorta. E anche tuo padre. Penso che le vostre strade si siano incrociate. Mi sembrava giusto lasciare che tu, che noi, avessimo una piccola vendetta. Sì. E tuo padre cosa c'entrava in tutto questo? Tuo padre non è più qui. Non ti ha visto crescere. Tanto quanto me. Tuo padre. Non ha potuto vederti crescere. Sì. Quello che gli è successo è stato... Uno schifo. Ecco cosa. Ho esaminato gli registri dell'incidente, naturalmente. Sembra che ciò che gli è accaduto sia stato uno sfortunato danno collaterale. Sfortunato danno collaterale, dici? Non ho mai chiesto che fossero i miei genitori. Ho accettato la situazione. E questo è tutto. Ah, certo. Ti sei accontentato, eh. E ti chiedi... E se... Ma... Ciò che conta è che per noi due è possibile un nuovo inizio. Con te più vecchio di me. Dove vuoi iniziare? L'istituto sta per fare importanti scoperte. La tua presenza sarebbe molto apprezzata. Ho fatto parte di qualcosa di incredibile qui. Lo posso immaginare. Ma non hai fatto parte della nostra vita. E l'agente dell'istituto. E ora, dopo tutti questi anni, hai l'opportunità di aiutarci. La cosa non ti attira. Non è quello che vuoi. Non lo so. Credevo che sarei entrata qui. E avrei avuto quello che volevo. Ma non è quello che ho ottenuto. Forse... Io... Non lo so. È difficile da digerire. Lo so. E mi dispiace. Devi averne passate tante in così poco tempo. L'istituto può fornire una vita migliore di quella possibile in superficie. Hai girato il Commonwealth. Hai visto com'è? Posso assicurarti che starai molto meglio con noi. Certo. In mezzo a tutte queste comodità. Ma io ho vissuto là sopra. So che cosa passa alla gente. Come puoi rinnegare tutte quelle persone? Come puoi dirlo? Come puoi rinnegare tutte quelle persone? Tutto quello che hanno fatto? Perché è la semplice verità. E credo che lo sappia anche... Certo. Alcune sono corrotte e sbagliate. Ma ce ne sono di persone buone lassù. Una possibilità. Una possibilità di mostrarti quello di cui ti ho parlato. Abbiamo davvero a cuore gli interessi dell'umanità. Vuoi sfruttare questa possibilità? E tu? Sei sicuro di volerlo? Sei sicuro di volerlo? Sì. Lavorare insieme gioverebbe a entrambi. Non lo so. Non saprei. Prenditi un po' di tempo. Dai all'istituto una possibilità. Da ora l'istituto è tanto casa tua quanto mia. Prenditi un po' di tempo per esplorarlo. Incontra le persone con cui lavorerai. Ti consiglio di presentarti ai capi di visione. Il dottor Fillmore di strutture. Il dottor Ayo di URS. Ah, il dottor Oldren di bioscenze. Infine è la dottoressa Lee di Sistemi Avanzati. La dottoressa Lee hai detto, eh? Sono stati tutti avvertiti del tuo arrivo, naturalmente. Vai a conoscerli. Poi potremo discutere del futuro. D'accordo. Voglio dare una possibilità a tutto ciò. Ma sappi che non sono d'accordo. Non su tutto questo. Uniforme del direttore dell'istituto e uniforme del direttore con armatura. Certo, qui avete una struttura magnifica. Non lo voglio negare. È il terzo disco primario che si rompe in questo mese. Per quanto mi riguarda non vedo l'ora che cambiano questi modelli. Ma poverini. Molti sono durati ben più del tempo previsto. Quindi sono oggetti per voi. Sono stati costruiti piuttosto bene. Non discuto. Ciò nonostante aspetto la produzione dei gentri. Ecco fatto. Tutto a posto. Unità. Puoi tornare in servizio. Grazie, signora. Grazie ancora. Ma certo. Lei è Ellie. Non scherzavano. Sei davvero qui? Se ce l'ho fatta. Io sono Allie. Allie Fillmore. Considermi l'ingegnere capo dell'istituto. Quando il padre ci ha detto di te, faticavo a crederci. Ne hai passate talmente tante che gli altri si sarebbero semplici. Non io. Mi dispiace. Se la domanda non è inopportuna, cosa ti ha spinto ad andare avanti per tutto questo tempo? Volevo trovare mio figlio. Volevo solo trovare mio figlio. E assicurarmi che stesse bene. Adesso che l'hai trovato, spero che ti faccia provare orgoglio nei suoi confronti per quello che è diventato. Quello sicuramente è una persona intelligente. Poi risponderò alle tue eventuali domande. Come puoi immaginare, facciamo in modo che i sistemi elettrici e meccanici dell'istituto funzionino sempre alla perfezione. Ci occupiamo della gestione e dell'aggiornamento dei sistemi che qui rendono possibili vita e lavoro. Dietro queste pareti ci sono macchine che riciclano l'aria e l'acqua e forniscono energia ai laboratori e... Posso immaginare quanta tecnologia ci sia. ...non sarà eccitante come quello degli altri dipartimenti, ma non è meno importante. Quello sicuramente. Visto che sei qui e che hai parlato con il padre, significa che sei dei nostri? Sto solo dando un'occhiata per ora. Sto solo dando un'occhiata. Capisco. Fai attenzione a quello che tocchi. L'equipaggiamento è molto delicato, non come quello della superficie. Oh, scusami, in superficie forse fanno schifo gli equipaggiamenti, ma almeno funzionano lo stesso. Fammi vedere che cos'hai. Vediamo cos'hai. Casco del sintetico MK2. Esperimento 18A. Crea un'aria di danno elettrico sul colpo. Ok. Il dipartimento di bioscienze. Forse qua troverò quello che Virgil mi aveva chiesto. Questo è un magazzino. Magari fra questi scatoloni lo trovo qualcosa. Questa videocamera me la porto a casa. Questa è chiusa. Non per me. Qui ci sono delle piante. Un'altra porta chiusa, eh? Sì. Forse sono nel posto giusto. Talmente giusto che ci sono addirittura delle trappole. Mi dispiace. Il Commonwealth mi ha addestrata bene. Ci sono addirittura dei sintetici morti qui. Chissà perché questa zona è stata abbandonata. Oh! Torrette, eh? Volevate proprio tenerla chiusa questa zona, vedo. L'aria non è sicura. Ripeto, l'aria non è sicura. Ah sì? E me lo stai dicendo tu con quella voce rassicurante? Vieni tu fuori. Disattiviamo le torrette. Apriamo la porta. E facciamo attenzione. Gli assaltron sono comunque pericolosi. A parer mio, molto di più dei sintetici. Volevate proprio tenerlo al sicuro questa zona, eh? Tutto questo silenzio è alquanto inquietante. Anzi, non promette nulla di buono. Ma c'è un gatto morto. Ci sono un sacco di gatti morti. E pensate che io possa accettare tutto questo? Chi se ne frega gli esseri umani? Avete ammazzato un sacco di gattini. Bestie schifose. Che cosa c'è qua dentro? A parte... Altre torrette. Ma ci sono dei super mutanti. Hanno lasciato dei super mutanti insieme a dei gattini. Li studiavate come fossero degli animali. Altri super mutanti. Di cui alcuni sono riusciti anche a scappare, a quanto pare. Il siro sperimentale. L'abbiamo trovato. Bene, io ho mantenuto la mia parte di promessa. Virgil ha mantenuto la sua. Una volta uscito da qua, gli darò quello che mi ha chiesto. Meglio... Meglio uscire da qui. Certo, anche Virgil faceva parte di tutto ciò. Essere uscito da qui non lo discolpa da quello che ha fatto. Quindi questo è il laboratorio di bioscienze. Quello è per caso un gorilla? E si stava appena grattando. Beh, ho avuto il permesso di girare d'altronde. Sto cercando di capire se c'è qualcosa di buono in tutto ciò. Oppure no. Un'altra vecchia struttura. E questa cos'è? È un'armatura atomica. È un'armatura atomica dell'istituto. Se è qui vuol dire che allora non serve. Probabilmente vivendo in tutto questo, un'armatura atomica non gli serve. Ma là sopra, le armature atomiche sono un'ottima difesa. Il dottor Capri ha ottenuto grandi risultati con le nostre piantagioni geneticamente modificate. Aha. Dottore. Salve. È bello vederti qui. Dottor Clayton Oldren, responsabile della divisione bioscienze. Non vedo l'ora di mostrarti quello che stiamo facendo. È sorprendente. Salve Clayton. Giudicherò quando ne saprò di più. Giudicherò quando ne saprò di più. In tal caso, lascia che ti racconti brevemente quello che facciamo qui. Come suggerisce il nome, la divisione bioscienze è specializzata nello studio di botanica, genetica e medicina. Ecco, questo mi piace già molto di più che creare esseri umani. ...di abitanti dell'istituto. A tale scopo, coltiviamo piante altamente selezionate da impegnare in ambito culinario e medico. Certo. Abbiamo perfino cominciato ad accarezzare l'idea di una vita animale sintetica. Ecco, questo non l'accetto. Si tratta ancora di un progetto secondario, ma il potenziale è indubbiamente entusiasmante. Anche i gorilla sono finti, eh? Anche i gorilla sono sintetici. Certo. A giudicare dalla tua domanda significa che abbiamo fatto un buon lavoro nel renderli più reali possibile. L'iniziativa è un po' di farlo. Oh, complimenti allora. Smettetela di chiederlo. Non lo so ancora. Non lo so. Vorrei bagliare anche altre possibilità. È una decisione difficile, ma anche un'opportunità unica è importante. Questo non lo metto in dubbio. Non devi decidere adesso. In ogni caso, mi immagino che vorrai continuare la tua visita. O se preferisci, sarò felice di rispondere alle altre tue eventuali domande. No, ti ringrazio. Vado a fare un giro. Grazie signore, ma quell'integratore non è più disponibile. Stupida macchina. Bel discorso, eh? Per chi crede di creare nuova vita. Gente del genere mi fa ribrezzo. Sistemi avanzati. Procediamo da qui. Sento sparare. Forse questo potrebbe essere interessante. Stiamo lavorando da più di un uomo. Cosa sta con l'alto? Niente. A questo punto credo che lo stia facendo per divertimento. Uh, nuove armi. Allora questo mi interessa. Che stiamo testando qui? Belle le vostre armi. Su questo non ho nulla da dire. Molto produttivo. Anche questo Lear non sembra male. E questa stanza invece è chiusa, eh? Non sembra esserci modo di passare. Parla con la dottoressa Lee a sistemi avanzati. E dove la trovo? Ah, salve. Il manuale dell'istituto del Lear. Ma vieni. Che mi permette di sbloccare la skin dell'istituto di Big Mountain. Ah, Big Mountain. Quanto tempo. Dunque lei è la dottoressa Lee. Dottoressa Lee. Ah, sei tu. Non puoi stare qui. Eh, chissà come mai. Ti stavo cercando. Ti stavo cercando. Me? Per quale motivo? Diciamo che hai attirato l'attenzione di qualcuno. Diciamo che hai attirato di nuovo l'attenzione di un certo gruppo che rappresento. Smettila di fingere. È evidente che ti manda la confraterra di Piacciano. Oh, che brava. Sapevo che era solo questione di tempo. Prima che la tua gente mi desse la caccia. Sono dieci anni che non faccio altro che guardarmi le spalle. In attesa dell'arrivo di un sicario come te. Ma non sono qui per ucciderti. Vengo in pace. Hai la mia parola. Neanche ci conosciamo e mi dai la tua parola? D'accordo. Voglio crederti. Brava donna. Visto che il padre si fida di te, ti concederò il beneficio del dubbio. Anche se non sono d'accordo su tutto ciò che dice, non permetterebbe mai a nessuno di farmi del male. Questo è sicuro. Dimmi cosa ci fai qui e dopo vattene. Sei felice qua per caso? Sei felice qui? Vivere circondati da attrezzature di laboratorio all'avanguardia e da alcune delle menti più brillanti al mondo potrebbe essere sufficiente per qualcuno. L'unico problema è la mancanza di trasparenza. Quello lo immaginavo. C'è qualcosa che non torna in tutto ciò. Cosa c'entra questo con quello di cui stiamo parlando? Beh, la tua felicità è importante. Forse dovresti tornarci. Dovresti tornare con la confraternita. Perché mai dovrei accettare? Hai per caso abbandonato progetti che vorresti completare? Hai abbandonato dei progetti che avresti voluto portare a termine. Non devi chiederlo a me. Se non ti hanno detto a cosa stavo lavorando, significa che non vogliono che tu lo sappia. Non metterò certo in pericolo la mia vita, rivelando i loro sporchi segreti. Dimmi una cosa. Perché mai dovrei tornare con la confraternita? Per quale motivo dovrei gettare via tutto quello che ho fatto qui? Effettivamente, hai ragione. Nessuno dei due è completamente nel giusto. Però, se il padre si fida di me, tu dovresti fidarti di me. Il padre si fida di me. Dovresti farlo anche tu. Si fida di te perché fai parte della famiglia. Io no. Non mi bastano le tue parole. Mi serve altro. Che cosa sentiamo? Almeno la confraternita è sempre stata sincera con te. La confraternita è sempre stata sincera con te. Comincio a essere stufa di tutti questi segreti. A volte ho l'impressione che il padre non sia sincero con me. Come se ci fossero delle cose che non dovrei sapere. Non mi piace. A chi piacerebbe? Come posso voltare le spalle a tutto questo? Magari il tuo lavoro in superficie potrebbe cambiare il Commonwealth. Il tuo lavoro potrebbe essere determinante per liberare il Commonwealth. Tu sai come parlare alla gente. Quali corde toccate. Assolutamente. Non mi sono allenata per nulla. Come mai l'istituto fosse così egoista. Con la tecnologia di cui disponiamo, potremmo salvare le vite degli innocenti che stanno morendo in superficie. Ed è quello che non mi piace. Ce ne stiamo nascosti qua giù, isolati da tutto. A creare nuove vite. Non è giusto. Non è giusto. Soprattutto per una come te, che è cresciuta là fuori. Non posso correre il rischio di farmi vedere con te. Brava donna. Dile ai tuoi superiori che possono contare di nuovo sui servizi della dottoressa Madison Lee. Brava Madison. Ora, giusto per salvare le apparenze, fammi vedere il tuo Pip-Boy. Mi è stato detto di installare un chip di predatore al suo interno. Ordini del padre. Ah, una nuova modifica. Con la possibilità di entrare e uscire dall'istituto a tuo piacimento. Grazie Madison. Grazie. Mi tornerà senz'altro utile. Visto che il trasmettitore è l'unica via d'accesso all'istituto, direi che utile è dir poco. Nel caso non l'avessi ancora capito, non ci sono altri qui tranne te ad avere questo tipo di accesso. Immagino. Vorrebbe dimostrarti la fiducia che ha il padre nei tuoi confronti. A proposito di fiducia, voglio sperare che la nostra chiacchierata rimanga da me. Non uscirà da queste stanze. Ora devo tornare al lavoro. Sono sicura che anche tu avrai altro da fare. Sì, mi rimane solo un'ultima divisione da vedere. La divisione dei sintetici. Ehi tu, sei il dottor Ayo. Ti chiedo scusa, dottore. Eccoti qui. Justin Ayo, direttore esecutivo dell'ufficio ritiro sintetici. Voglio essere franco con te. Ti terremo d'occhio nel prossimo periodo. E da vicino. Nonostante la donazione del mio padre, sei una persona pressoché sconosciuta. Sono certo che mi capisci. Non ci saranno problemi, vero? Se voi non darete problemi a me. Perché? Non ti fidi di me? Voglio essere sincero. Vieni da fuori. Sei una persona estranea. A conti fatti, sei il primo estraneo che visita l'istituto da molto, molto tempo. Immagino. I precedenti si contano sulle dita di una mano, perciò è naturale prendere precauzioni extra. Mi scusi, si può togliere da davanti lei? Il padre mi ha chiesto di farti una breve introduzione sull'ufficio ritiro sintetici. Dai, sentiamo. L'obiettivo primario è il recupero dei sintetici fuggiti che si nascondono tra la popolazione umana in superficie. E perché vogliono scappare? Perché i sintetici vogliono scappare? I sintetici non conoscono il concetto di volontà o desiderio. Sembrano esseri umani. Vedi allora che lo dite anche voi. Per quanto riguarda il motivo della loro fuga, stiamo attualmente cercando di capire. Il nostro strumento principale è il predatore. Un sintetico di terza generazione abilitato a operare in superficie. I predatori danno la caccia ai sintetici scappati dall'istituto e li recuperano. Sono altamente autosufficienti, addestrati in combattimento, infiltrazione e pedinamento. In una parola, i nostri predatori sono implacabili. Ma immagino che tu lo sappia dal momento che ne hai già incontrato uno. Infatti, mi piacerebbe sapere come hai fatto a neutralizzarlo. Complimenti a me. Beh, è stato facile. Un paio di colpi ben precisi. Mi spiace deluderti, ma il tuo predatore non era poi così forte. Allora è probabile che l'unità fosse difettosa. Eh, certo, come no. Suppongo dovrò chiedere alla divisione robotica di effettuare dei test approfonditi sull'intera produzione. Vai, vai. Chiedi informazioni. Come se non avessimo già abbastanza problemi. Ora, se non ti serve altro, tornerei al lavoro. Vai pure. Quindi è qui che resettate la memoria di un sintetico. Probabilmente non è neanche piacevole ricevere tutti questi aghi nella schiena. Hai chiaramente un problema e intendo segnalarlo. Forse, dopo che ti avranno smontato, potremmo usare i tuoi componenti per creare qualcosa di utile. Che schifo. Meno male che volete creare nuove persone. Un mondo migliore, eh. Quello che vedo qui sono un sacco di bugie. Intanto, prima di tornare indietro, ho bisogno di scannerizzare questo posto. Usiamo lo scanner di rete. E speriamo che non ci sgamino. Togliamo loro nastro. E speriamo che nessuno se ne sia accorto. Certo, tutto quello che fanno qui ha sicuramente dello straordinario. Tutta questa scienza. Tutte queste menti brillanti. Hanno sicuramente qualcosa di ottimo qui. Ma quello che stanno facendo non è giusto. Stanno tenendo tutto questo per loro. Sostituiscono le persone e le cambiano con dei sintetici. Non so ancora quale parte scegliere in questa battaglia. Io avevo solo un obiettivo in tutto ciò. Trovare mio figlio. E l'ho trovato. Ma mio figlio è a capo di tutto questo. Cosa dovrei fare ora? La mia figlia è a capo di tutto questo. Il nostro��tivo in tutto ciò. E l'ho trovato. Ma mio figlio è un obiettivo in tutto ciò.